Buon pomeriggio a tutti e a tutti e benvenuti a questo convegno dedicato agli acquisti circolari in edilizia e nei lavori pubblici. Faccio una breve intro di contesto ma poi lascio spazio ai miei ospiti e quando si parla di edilizia ci si dice che come per qualsiasi ambito in cui si provano ad applicare i principi dell'economia circolare anche nell'ambiente urbano e nell'edilizia dobbiamo provare a immaginare anche in questo settore la città e gli edifici come se fossero degli organismi viventi, l'economia circolare ci dice che dobbiamo imparare, riemparare a prendere spunto dalla natura e fare sì che la nostra economia, le strutture che abitiamo, le città che attraversiamo siano il più possibili inseriti in un modello rigenerativo e quindi l'ambiente costruito ma anche l'ambiente urbano dovranno essere interamente ripensati, andranno definite nuove strategie di progettazione, è già in corso questo, immaginate nuovi modelli di business e per fare questo è fondamentale che tutti gli attori della filiera e chi invece si occupa della parte di governance istituzionale possano sedersi intorno a dei tavoli insieme comunicare e capire come insieme costruire un modello rigenerativo e questo è il riconoscimento di questi momenti come questo organizzato dal Forum Compraverde e dalla Fondazione Ecosistemi è proprio il vantaggio di poter essere qui e dialogare insieme su questi obiettivi comuni. I centri abitati delle città e piccoli paesi sono l'1% delle terre emerse, è quella della stima che è stata fatta eppure guardando ad alcuni dati che ci dà l'Unione Europea il 72% dei cittadini vive oggi nelle aree urbane e il numero salita entro il 2050 è previsto all'83,7% quindi le aree urbane esercitano un immenso stress sui sistemi e sono responsabili del 39% delle emissioni globali di CO2 e oltre il 30% di impronta di carbonio a livello europeo. In Europa quindi l'edilizia a livello energetico assume circa il 40% della domanda e il 63% totale del consumo di materie prime a livello globale è stimato che venga consumato all'interno del settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Quindi è fondamentale ragionare, iniziare a portare avanti e mettere a sistema pratiche che ci aiutino a ridurre questa impronta sul mondo in cui viviamo e in questo anche che ci aiuti a vivere in degli ambienti urbani e cittadini più salubri per chi attraversa case e città. Non tolgo altro tempo e proviamo insieme alle relatrici e ai relatori di oggi a fare un po' un quadro di quella che è la situazione rispetto agli acquisti circolari nella pubblica amministrazione e nell'edilizia e nei lavori pubblici. Lascio la parola a Dana Vocino che è responsabile della pianificazione territoriale e dei reporting di sostenibilità e dei progetti di Green Public Procurem per la fondazione Ecosistemi, ai quali chiedo di aiutarci. Io ho dato i dati quelli cattivi, quelli brutti, quelli che ci mettono un po' di ansia, ma invece le chiedo di farci una fotografia e darci i numeri che sono invece legati alle pratiche già in atto in economia circolare. Grazie. Sì, mi sentite? Ci sono due o tre slide proprio? Grazie. Ma posso, vado avanti io? Ok, no, non è la mia però, non è la mia presentazione. È la tua questa. Vocino? Arrivano? Sì. Sì, sì, intanto che aspettiamo questa presentazione. Allora, intanto appunto mi è stato chiesto di dare un po' i numeri stamattina sull'economia circolare in Italia e in Europa e quello che, ecco, non so quanto si vedrà, no, lì troppo piccolo chiaramente, ma vi aiuto io. Allora, questo è un diagramma di flusso che è stato prodotto dall'Eurostat. Vi spiego un po' i colori di questo diagramma. Nell'immagine in basso vediamo qual è il diagramma dei flussi di materiale in Italia nel 2011. Quello giallo è quello che ci interessa perché sono proprio i minerali non metalliferi, quindi i minerali che utilizziamo, i materiali che utilizziamo nelle costruzioni. Che cosa ci dicono questi due diagrammi in confronto? Abbiamo l'Italia nel 2011 e l'Italia di oggi, nel 2021, insomma, l'ultimo è del 2021. Queste sono le tonnellate pro capite di materiale che estraiamo dalla crosta terrestre, che poi viene utilizzato, viene immagazzinato nei nostri edifici, e poi una parte di questo materiale poi viene anche riciclato. Ecco, noi in Italia siamo, insomma, in dieci anni abbiamo migliorato molto le nostre performance dal punto di vista sia dell'estrazione del materiale, cioè abbiamo ridotto l'estrazione del materiale dalla crosta terrestre del 34%, quindi consumiamo meno, in particolare, minerali non metalliferi, ma poi abbiamo anche un incremento del riciclaggio dei materiali, quindi un più 22% rispetto a dieci anni prima. E poi siamo anche abbastanza bravi dal punto di vista, vabbè, questo ovviamente riguarda tutta una serie anche di altre politiche, però anche le tonnellate pro capite di materiali che mandiamo a discarica sono diminuite del 67% in dieci anni. Quindi la situazione, diciamo, anche se siamo sempre molto spaventati di come vanno le cose, poi per la verità diciamo che le nostre performance piano piano stanno migliorando. Ancora di più se vediamo l'Italia di oggi confrontata con le tonnellate pro capite in Europa, qui, vabbè, non vedete niente, pensavo che fossero un po' più grandi monitor, ma diciamo che noi come riciclaggio, per esempio, ricichiamo il doppio quasi di quanto viene riciclato mediamente in Europa. Quindi anche la situazione vista rispetto al dato europeo, è una situazione, quella italiana, abbastanza, diciamo, in via di miglioramento anche positiva. E l'ultima slide che vi volevo far vedere, se riesco, ecco, è il confronto per esempio con un paese molto simile al nostro, la Spagna, anche se come abitanti sono un po' di meno loro, ma anche qui per l'Italia abbiamo una situazione migliore rispetto a un paese simile al nostro. Quindi anche qua ricicliamo molto di più, sicuramente perché probabilmente i nostri consorsi del riciclo funzionano anche bene in Italia, quindi questo sicuramente è dovuto appunto all'attività dei consorsi nazionali, ma probabilmente anche un po' di questo miglioramento, di questa performance positiva, forse un tantino la potremmo anche attribuire all'applicazione dei CAM in edilizia. Grazie. Grazie Dana. Sicuramente abbiamo visto come negli ultimi anni, appunto, ce lo restituiscono anche i dati Eurostat, la situazione è nettamente migliorata. Poi vedremo come nel lungo di questa chiacchierata, durante questa chiacchierata, poi dobbiamo anche trovare il modo di trovare delle applicazioni per questi materiali che provengono appunto da processi di riciclo. E per passare poi all'applicazione nel settore dell'edilizia, dare la parola al dottor Mari Marco Mari, che è il presidente dei Green Building Council Italia, e con un'associazione non profit che fa parte invece della rete poi del World Green Building Council, che rappresenta appunto la più grande organizzazione internazionale del mondo, che mette insieme gli attori che provano e che fanno edilizia sostenibile. Quindi le chiederei intanto di raccontarci un po' quali sono gli scopi di questa associazione e poi come attraverso la messa in rete di tutte queste organizzazioni e enti che si occupano di edilizia sostenibile è possibile riuscire a creare quelli che sono dei protocolli di fattibilità e qual è l'utilità di una domanda un po' scontata, ma è bene raccontarci e ripeterci le cose per fessarle. Grazie. Intanto, proviamo a vedere se funziona, non funziona, proviamo il tuo. Provo, ecco adesso funziona. Grazie mille anche per averci invitato, lo facciamo sempre con grande piacere di partecipare e secondo me non si parla mai abbastanza delle azioni e le attenzioni che possiamo avere. Attenzioni che per la nostra associazione sono volte a una finalità, una missione, quella di trasformare la filiera dell'edilizia e più in generale l'ambiente costruito in direzione dello sviluppo sostenibile. Quindi il tema principale è sicuramente quello che si discute oggi, il tema della economia circolare. Non solo però perché un edificio oppure un'infrastruttura è un sistema complesso e questi sistemi complessi hanno a che vedere con consumi di vario genere. Acqua, energia, parliamo di acqua in questi periodi, mi viene un po' la pelle d'oca. Acqua non solo in termini di acqua consumata ma acqua gestita, le acque meteoriche, visto che siamo sotto alluvione per intenderci. Io sono di origine marchigiana e vivo in Emilia Romagna, quindi in questo momento dovunque guardi abbiamo dei problemini al punto di vista della gestione di quelle che chiamiamo bombe d'acqua, un tempo non esisteva questo termine. Ecco quindi anche dal punto di vista dell'acqua, il tema della circolarità soprattutto per gli usi e i consumi è fondamentale, non solo per i materiali, noi siamo gli unici che sprechiamo l'oro blu, l'acqua che beviamo, quella dolce per scaricare i nostri bagni. Ecco questa è una cosa impensabile, essendo questa una risorsa scarsa. Quindi il tema della circolarità è fondamentale, ma gli altri aspetti anche legati al fatto che le persone abitano all'interno degli edifici, quindi la salubrità dei luoghi dove viviamo, abbiamo anche appreso con il Covid e tanti altri parametri vengono misurati proprio, ecco, lasciamolo giù, vengono misurati da quelli che vengono chiamati protocolli energetico-ambientali. Questi strumenti hanno in qualche modo, grazie mille Sergio, dato uno spunto, mi permetto di dire, a un ambito importante che è quello del Green Public Procurement e poi ne parlerà sicuramente meglio Sergio Saporetti, sull'ambito degli acquisti verdi della pubblica amministrazione e dunque gli strumenti criteri ambientali minimi. Ma, giustamente, Dana diceva e io confermo, una parte dell'economia circolare, i risultati dell'economia circolare, vengono proprio dai CAM edilizia, dato che è stato citato quanti materiali vengono consumati, ma dobbiamo pensare che in peso in Europa l'Italia, come rifiuti speciali, fa circa il 50% di rifiuti da questa filiera. Quindi, se il 60% o circa sono di materiali necessari, il 50% di rifiuti, diciamo che è il circolo che si chiude all'interno di questa filiera. Primo elemento. L'altra notizia importante è che, in realtà, l'amministrazione pubblica arriva adesso con velocità e con forza su questo approccio, ma il privato, in parte, è già partito. A livello mondiale, la filiera edilizia che applica protocolli energetico-orientali rappresenta circa 15 miliardi di metri quadri. E questo è uno dei pochi settori che raddoppia mediamente ogni tre anni. Adesso sta aumentando ancora la velocità. In Italia, di questa grande onda, è buffo, ed è iniziata dal settore privato, spiegherò poi perché, contaminando giustamente il settore pubblico, abbiamo più di 20 milioni di metri quadri. Se guardiamo, per esempio, i protocolli più utilizzati al mondo, quelli della famiglia, l'IDGPC. 20 milioni di metri quadri di edilizia che in circa 10 milioni, poco più, quasi 11, stanno andando in certificazione, e più di 10 milioni di metri quadri di edifici già certificati con questi protocolli che domandano economia circolare, che domandano riduzione dei consumi e degli impatti in generale. Ecco che, allora, concordo pienamente, una quota parte di questi edifici, ancora piccola in Italia, è legata all'impulso del Green Public Procurement. Ma una parte molto importante è legata al mercato privato. Il perché è semplice. I protocolli energetico-ambientali, che poi sono citati nei CAM edilizia come processi di rendicontazione e, a livello volontario, certificazione, sono dei processi di accountability. Quindi è tutto il processo che garantisce i minori impatti su tutte le variabili, compresa l'economia circolare. La cosa interessante è che questi protocolli sono dei rating system. Chi ha preso il rating system come elemento di valore è la finanza a livello mondiale. Il rating di questi protocolli rappresenta un indicatore di rischio di credito. Meno rischio, meno costo del denaro. Più rischio, più costo del denaro. Ecco che, allora, di questi 20 milioni di metri quadri, diciamo, il 70% vengono da edilizia privata, che richiede questo. La stessa modalità e operatività passa per la pubblica amministrazione, che da tempo ha riconosciuto questi processi di rendicontazione, anche per semplificare, perché se è una metrica, una modalità che funziona nel privato, un edificio pubblico non cambia di modalità di rendicontazione perché cambia di proprietà. L'edificio è quello e deve essere misurato con strumenti analoghi. Quindi hanno semplificato da questo punto di vista. Ma c'è un ulteriore impulso che sta arrivando, sul quale ci aspettiamo una grande crescita della pubblica amministrazione, dato da due fattori. Il primo, finalmente, primi in Europa, i criteri ambientali minimi per l'edilizia, hanno un'obbligatorietà anche per gli edifici storici, perché anche un edificio storico può ridurre, soprattutto dal punto di vista della circolarità, l'impatto che ha. Primo elemento, e questo siamo primi in Europa. Secondo, perché da un punto di vista della rendicontazione abbiamo un vincolo europeo. L'Europa, con la tassonomia, ci è obbligati ai principi del do not significant harm. Ecco, un modo per dimostrare il processo del accountability del do not significant harm è dato da protocolli energetico-ambientali, più assolutamente i CAM, quando edificio pubblico. Ecco che allora questo binomio sta andando veloce. L'Europa ci ha imposto di fare una semplificazione del quadro normativo, ci ha fatto vedere i soldi, ha detto fai le modifiche all'aspetto normativo, se no non ti do i soldi. E le abbiamo fatte, infatti è uscita la prima linea guida per il progetto di fattibilità tecnico-economico, il PFTE, legato a PNRR e PNC. Ecco, adesso aspettatevi che a brevissimo esce la seconda linea guida applicabile a tutti gli edifici, al di là che sia PNRR e PNC per la parte pubblica. E questa nuova linea guida del PFTE prevede giustamente i CAM, i protocolli energetico-ambientali. E se guardate il codice dei contratti, guarda caso, richiama fortemente il PFTE, richiama comunque, come il precedente, i CAM, e quindi questo elemento darà ancora più impulso a quella che, ripeto, è un mercato che è fatto di impatti e non solo di pubblico privato. Il pianeta è sempre quello. Quindi ci aspettiamo una crescita ancora maggiore. Ad oggi, sui protocolli energetico-ambientali più utilizzati al mondo, l'Italia è il secondo paese dopo la Spagna, ma cresciamo più veloce, è prima della Germania ed è tra i primi dieci al mondo. Quindi piccoli primati che, in qualche modo, messi insieme, se aggiungiamo l'approccio agli edifici storici, che ci vede l'IDER a livello mondiale, fanno vedere come la community italiana che si occupa di acquisti verdi, pubblici o privati, in particolare per la filiera edilizia e immobiliare, quindi comprendendo materiali e prodotti, ecco, su questo siamo molto ben posizionati. Sarebbe forse ora di raccontarlo un po' più fortemente, ma qui si fa ed è un bene. Grazie. Vorrei chiedere, rispetto ai CAM, che hanno migliorato la possibilità di applicazione, di implementazione di protocolli e politiche di circolarità all'interno anche di questo settore. Quindi ci sono state fatte delle misurazioni o delle stime rispetto al reale impatto, poi che le criteri ambientali minimi hanno avuto sull'economia circolare, in particolare nel settore dell'edilizia, e come i CAM in generale si stanno trainando in qualche misura all'offerta e allo sviluppo dei materiali, materiali, materie prime e secondarie, quindi provenienti da processi di riciclo. Sì, grazie. Allora, come accennava prima il dottor Mari, intanto una delle novità dei CAM edilizia è stata di estendere, è meglio chiarire e specificare il campo di applicazione, l'ambito di applicazione, rispetto alla versione precedente. Quindi una delle più importanti operazioni che abbiamo fatte è stata quella di rendere più comprensibile, più applicabile, più leggibile il documento. Già appunto a partire dalle specifiche sull'ambito di applicazione. Tra l'altro, apro parentesi, il tema del restauro in Italia è molto significativo e importante per ovvie ragioni stranote. Però ciò che io ho riscontrato nel corso dei lavori è una affinità di intenti nel momento in cui chi opera nel settore del restauro è per formamenti, per approccio sia a soluzioni tecnologiche sia a uso di materiali, più vicino già tradizionalmente a soluzioni innovative ma sostenibili allo stesso tempo. Questa è un'affinità interessante perché scopo dei cambi in effetti alla fine è trovare le soluzioni tecnologiche, i materiali migliori dal punto di vista della sostenibilità, in primis ambientale. Quindi abbiamo trovato con i colleghi anche del MIBACT questa affinità. che diciamo ci ha fatto piacere anche a noi come Ministero Ambiente perché ha creato questo rapporto di collaborazione su temi su cui un tempo non avremmo pensato di avere una proficua collaborazione perché a volte tra i diversi settori di competenza dei ministeri non c'è sempre comunione di intenti, in questo caso si è trovato l'obiettivo comune. Io ho potuto dal mio punto di vista verificare come l'impatto dei CAM sia stato ed è sempre più significativo nel mercato perché c'è tutto un settore, tutta una numerosità di soggetti a vario titolo coinvolti nel processo e nelle filiere dell'edilizia sostenibile che trovano nei CAM una leva di rilancio della propria attività e dei propri interessi, interessi economici che in questo caso sono dal mio punto di vista più positivi, proattivi verso gli obiettivi di sostenibilità. E quello che viene fuori nei lavori dell'elaborazione dei CAM è proprio questa distinzione sempre più evidente nel mercato, nelle sollecitazioni che arrivano dal mercato tra un business improntato alla sostenibilità ma è un business improntato più a conservazione, conservatorismo di posizioni non più tante innovative e soprattutto non capaci di visione futura. Quindi siccome il Ministero noi siamo apertissimi al confronto con i soggetti interessati è bene che chi ha questo spirito di innovazione e un business più improntato alla sostenibilità nel campo dell'edilizia si faccia anche promotore di iniziative e sia presente, sia ben presente anche a livello di input da fornire a noi del Ministero. I risultati. Allora noi stiamo proprio in questo periodo, dopo una lunga fase di gestazione, abbiamo avviato un progetto di analisi dei risultati e di valutazione anche degli impatti che i CAM hanno attraverso le risorse che noi abbiamo del CNR. perché noi abbiamo delle risorse CNR che stanno, che lavorano appunto per la direzione, che stanno appunto elaborando questo progetto di analisi e valutazione dei risultati. Abbiamo ovviamente ancora dei risultati parziali perché per quanto ci sia un movimento incredibile intorno ai CAM non è facile avere l'informazione diretta del comune, della stazione appaltante, dell'ente pubblico che ha effettivamente applicato i CAM. Oltre a questo poi non è facile calcolare il reale impatto ambientale dell'applicazione dei CAM, che tra l'altro è qualcosa che dovrà essere fatto anche per le valutazioni che la stazione appaltante deve fare in base al nuovo articolo 57,2 del codice che dice che le stazioni appaltanti devono anche valorizzare economicamente l'applicazione dei CAM. Quindi il valorizzare economicamente può significare da un lato costruire una giusta base dell'importo della gara, ma anche fare possibilmente, io credo, delle valutazioni anche di tipo impatto. Quindi il dottor Mari sa bene cosa questo vuol dire e quale può essere il supporto futuro che si può dare alle stazioni appaltanti per valutare questi impatti appunto dell'applicazione dei CAM. Dal punto di vista dei materiali, si parlava anche dei materiali, circolarità, gli input sono enormi, cioè continuamente arrivano input da parte del mercato su nuovi materiali, nuovi processi produttivi, nuove anche certificazioni, cioè tutto il tema delle certificazioni che appunto hanno lo scopo di qualificare in modo certo le prestazioni ambientali di un prodotto e l'amministrazione pubblica ovviamente, alla fine i miei colleghi RUP, hanno bisogno di strumenti di qualificazione e di certificazione certa del prodotto. E questi sono strumenti che si stanno notevolmente sviluppando proprio grazie alla crescita della domanda di lavori, prodotti e materiali conformi ai CAM dovuti all'obbligo di applicazione dei CAM stessi. Quindi siamo proprio in una fase di enorme movimento del mercato, di enorme crescita e anche l'evoluzione che negli anni ha avuto quest'iniziativa e il numero sempre di presenze a questo tipo di iniziative ce ne dà conto. Fino a ieri e ora pure ci sarà un incontro con i RUP e questi incontri sono pure notevolmente utili proprio perché da un lato abbiamo chi produce offerta, dall'altro però abbiamo chi deve creare domanda. Quindi questi momenti sono anche utili per questo. Grazie mille, è fondamentale perché se no ci ritroviamo dall'accumulo dei rifiuti all'accumulo dei materiali rigenerati, quindi è fondamentale che ci sia una crescita così come dell'innovazione tecnologica, delle soluzioni legate alla filiera del riciclo che in parallelo ci sia assolutamente la crescita anche del mercato affinché poi chi investe in queste innovazioni, in questi processi insomma non rischi da solo ma sia accompagnato nel rischio e poi trovi riscontro. Quindi ringrazio Dana, la dottoressa Vocino, il dottor Saporetti e il dottor Mari e chiamo a raggiungermi il dottor Musumacchi, Ettore Musumacchi presidente dell'European Tire Recycling Association e tra i responsabili del progetto Replan City Life e io intanto mi sposto perché lascio lo spazio, la sedia ai miei ospiti Alessandro Fantilli del Dipartimento di Ingegneria Strutturale di Legge Tecnica e professore ordinario al Politecnico di Torino perdonami, il dottor Matteo Sambucci, ricercatore di Ingegneria Elettrica dei Materiali e delle Nanotecnologie dell'Università La Sapienza di Roma e Marco Benzo della città metropolitana di Torino a cui chiedo di presentarci che cos'è il progetto Replan City Life e un progetto che è iniziato nel gennaio 2022, dura tre anni e mezzo e diciamo ha lo scopo di sensibilizzare la pubblica amministrazione sull'utilizzo della materia prima, seconda o secondaria come vogliamo chiamarla che si ottiene dal riciclo degli pneumatici perché come abbiamo detto gli appalti pubblici in edilizia e all'interno del settore dell'edilizia e dell'urbanistica non è solo quello che si può fare negli edifici ma anche nella città nelle strade che attraversiamo, quindi chiederei prima di tutto il video so che c'è un breve video di presentazione del progetto e poi vi lascio per la presentazione del progetto e torniamo poi alle domande non c'è l'audio in europe, material recycling attained a level of 38% of VOL tires, still low, compared to other waste streams energy recovery is not efficient, as it gives back only 16% of the energy used for their production Replan City Life is a shared construction site where 14 partners work together, coordinated by the European Tire Recycling Association, COMSA, ITEC, FGC from Spain, IETU and WMRC from Poland, IASLIM from Slovenia, Region of Crete and Keridis Group from Greece, Fondazione Ecosistemi, Polytechnic of Turin, University of Turin and Metropolitan City of Turin from Italy 6 European countries for a total budget of more than 2.6 million euros, of which almost 1.5 million were co-funded by the European Commission While many technicians are aware of the potential benefits of replacing virgin materials with recycled tires materials, they often never had direct experience in using them, or sufficient support to introduce them into their designs and programs Thus, a crucial element of Replan City Life is to define simple and effective guidelines based on these available experiences within the context of an implementation strategy Objectives of the project are Raise awareness among technicians of public administrations, stakeholders and policymakers of the use of recycled tire materials in buildings, transport infrastructure, urban areas and sports facilities Promote circular economy principles for RTMs in the urban environment Develop and promote green public procurement, or GPP, guidelines in collaboration with companies and public administrations Expand visibility of RTMs works through a web application The actions that will be taken to achieve the objectives are Set up working groups and strategic action definitions Preparation of a circular economy RTMs plan Green public procurement guidelines and implementations model for the procurement procedure Training workshop Dissemination to promote the solutions and to stimulate interest and collaboration The expected impacts of the project are 8,000 target audience aware of the topic of recycled tire materials 1,200 technicians reaching adequate knowledge 300 public administrations adopting circular economy RTMs plan 200 public administrations adopting green public procurements guidelines Replan City Life started on January 1, 2022 The project is now continuing with in-person meetings until its end on June 2025 Want to know more? Then visit the official project page www.re-plantcitylife.eu Replan City Life, shaping circular cities Grazie della proiezione e chiedo al dottore Ettore Musacchi di iniziare a raccontarci più nel dettaglio il progetto Replan City Life Grazie, grazie a tutti Grazie a tutti Questo progetto Abbiamo voluto usare il video così in pillola dare un'idea di quello che è questo progetto di questo progetto c'è una grossa esigenza perché dal nostro settore qualche slide poi vi faccio vedere che aiuta c'è una grossa capacità di produrre dei materiali di ottima qualità che trovano degli impieghi di alto valore aggiunto come poi i miei colleghi vi spiegheranno però i mercati che dobbiamo raggiungere tentano a crescere come potrebbero e come ci si aspetterebbe e quindi questo progetto è importante per portare a conoscenza di un vasto pubblico sia privato ma soprattutto pubblico quindi la pubblica amministrazione di quelle che sono le possibilità di utilizzo di questi materiali qualche dato è stato molto sintetico aiuterà a capire la situazione in Europa ogni anno vengono generati 4 milioni 200 mila tonnellate di pneumatici fuori uso una quantità importante enorme non solo per diciamo la quantità in sé da dover in qualche modo gestire ma perché questa quantità racchiude un valore enorme di energia che è stata utilizzata per produrli quindi già c'è stato un forte impatto sull'ambiente per creare questi prodotti prodotti che incorporano dei materiali di primissima qualità e che sono in grado di attribuire delle ottime prestazioni nei campi di applicazione questo questo diagramma molto semplice da un'idea immediata e di facile percezione di quello che è stato il progresso negli anni quindi il riciclaggio di materia è cresciuto fino al 38% altrettanto grossomodo è la quantità di pneumatici che vengono destinati al recupero energetico ecco il fatto che però si nota negli ultimi anni queste quantità si sono in qualche modo congelate cioè il recupero di materia che dovrebbe in un qualche modo prevalere e crescere non riesce a guadagnare terreno il recupero di energia purtroppo si è spostato dall'Europa ai paesi in via di sviluppo cosa significa? navi e navi di rifiuto che vengono imbarcate e vanno verso destinazioni dove non c'è più un tracciamento dove non c'è più un controllo preciso e diciamo accurato di quello che succede ecco questo diagramma qua ve lo voglio commentare perché fa capire esattamente inviterei anche i signori lì se vogliono accomodarsi ecco i 4.200.000 tonnellate di pneumatici vuol dire 9 chili di pneumatico a testa cioè ogni cittadino europeo che sia un neonato, adulto eccetera è in un qualche modo rappresenta 9 chili di questo rifiuto che fine fa questo rifiuto? abbiamo fatto uno spaccato per chilo quindi 3 chili di questi 9 chili vanno al recupero energetico 17 chili scusate 3 chili che sono il 33% il 17% è l'acciaio il tessile è circa il 7-8% quindi già questa quantità qua significa ulteriore combustione perché il recupero energetico significa bruciare i pneumatici l'acciaio significa andare in fonderia il tessile nella maggior parte dei casi va a recupero energetico quindi già più di metà di questa roba qui significa ulteriore emissioni di CO2 cosa rimane? abbiamo il riuso circa l'8% riuso significa riutilizzare le gomme perché hanno ancora un battistrada oppure inviarle alla ricostruzione perché viene rifatto un nuovo battistrada di questi 9 chili di pneumatico prima che entrino in questo circolo comunque circa il 10% viene consumato per l'abrasione quindi sono micropolveri che vengono rilasciate nell'ambiente poi abbiamo due utilizzi interessanti circa il 0,6 chili e 0,8 chili che è vero recupero di materia il 6 e il 67% grossomodo va nei campi in erba artificiale gli altri sono diversi usi industriali applicativi eccetera ecco allora capite bene come tutto il recupero di materia appoggia su questi due sbocchi e come il recupero di energia tende ad espandersi se li va a mangiare perché sempre di più si cerca di semplificare di mandare a bruciare, di fare navi quindi il recupero di materia è qualcosa che è nel dna delle piccole e medie imprese che sono sempre più oberate da tutta una serie di incombenze di adempimenti e di varie complessità ultima slide che così poi non voglio sottrarre altro tempo microplastiche c'è il grosso tema microplastiche che sta colpendo il nostro settore in modo pesante per quale motivo? perché il granulo di gomma che viene utilizzato nei campi in erba artificiale è classificato come microplastica e quindi c'è un potenziale rischio di dispersione o di trasferimento dal campo all'ambiente circostante ecco noi abbiamo fatto un'analisi abbiamo riletto i dati quindi provo ad indicarlo questo sarebbe il quantitativo effettivo di rilascio di granulo nell'ambiente dei campi da calcio ok? 3 grammi per persona il rilascio di microplastiche dovuto a abrasione pneumatico sono 900 grammi per persona il rilascio di tire abrasion di particelle di gomme utilizzate in agricoltura sono 62 grammi per persona rilascio che va direttamente nel campo in cui viene coltivato il cibo che mangiamo un altro importante rilascio sono 44 grammi per persona di microplastiche di polimeri utilizzate per incapsulare le sementi e i fertilizzanti anche quelli vanno direttamente nel campo agricolo ecco allora capite bene come una misura deciso dalla commissione europea per limitare i microplastiche anziché contenere i microplastiche sta uccidendo un settore che fa un recupero virtuoso di un rifiuto questo per dare una lettura più diciamo critica o anche una chiave di lettura di quello che succede questo sono i dati del progetto ma non sottraggo tempo agli altri attori perché erano il filmato e comunque poi le slide saranno a disposizione cos'altro? sì il fatto che ho già detto c'è poca consapevolezza di questi materiali che vanno in tante applicazioni le ferrovie, le strade, le edilizie, i campi cioè è veramente un mondo e niente gli obiettivi del progetto principalmente sensibilizzare i tecnici c'è la pubblica amministrazione all'utilizzo di questi materiali promuovere l'economia circolare promuovere e sviluppare promuovere gli acquisti verdi e stiamo creando una forte piattaforma digitale per permettere a tutti di condividere queste esperienze spero di essere stato chiaro lascio la parola all'ingegnere Fantilli del Politecnico di Torino che vi illustrerà più in dettaglio un'applicazione Nell'ambito del progetto Replan c'è anche un'attività un po' più specifica relativa all'uso di calcestruzzi con materiali di riciclo perché il calcestruzzo è allo stato attuale il materiale artificiale più utilizzato sulla terra dopo l'acqua in generale il materiale più utilizzato ora l'obiettivo del progetto è anche quello di promuovere la creazione di alcuni cluster che in qualche modo possono creare il circolo l'economia circolare di cui stiamo parlando il cluster in questione è diciamo composto da diverse aziende le vedete riportate qui che operano nei pressi di Torino quindi nella zona diciamo in una zona del Piemonte intorno a Torino c'è un produttore di elementi prefabbricati di calcestruzzo che diciamo ha intenzione di entrare sul mercato come vedete nella slide successiva pubblico proponendo appunto delle diciamo il suo prodotto classico rispettoso dei CAM c'è diciamo anche chi fornisce a questo produttore di prefabbricati il materiale quindi gli inerti il cemento e ovviamente dovendo esserci del materiale di riciclo oltre a diciamo i suoi classici fornitori abbiamo quindi aggiunto anche fornitori in questo caso di materiali di riciclo provenienti dalle gomme degli pneumatici in generale dagli pneumatici a fine vita ora di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un prodotto prefabbricato almeno nel nord Italia molto utilizzato che è appunto chiamato predal la predal la vedete riportata nel disegno è diciamo in pratica un elemento che arriva in cantiere vedete gli operai che lo stanno sollevando da una da un'industria di prefabbricati viene disposto in orizzontale e diciamo successivamente con un getto di completamento serve per formare un solaio praticamente diciamo la struttura su cui noi oggi siamo stiamo parlando stiamo lavorando operando in generale ecco l'obiettivo dell'azienda è quello di creare questo oggetto rispettoso rispettoso dei canti ovviamente diciamo la nuova lastra predale che viene prodotta è stata chiamata Green Deal non vi spiego più di tanto diciamo il motivo per cui questa questa lastra deve contenere in accordo con i criteri ambientali minimi il 5% di aggregato di riciclo ma vi illustro come diciamo l'azienda ha deciso di affrontare il problema devo introdurre dei materiali di riciclo o meglio devo introdurre un prodotto contenente materiali di riciclo lo voglio fare in che modo cercando di offrire a chi compra il mio prodotto un qualcosa che forse è meglio di ciò che normalmente produco senza materiali di riciclo quindi offrire a chi acquista non solo diciamo il prodotto rispettoso dell'ambiente ma anche con prestazioni migliori quindi diciamo da una occasione di vendita del prodotto ha una sfida quindi a migliorare il prodotto stesso come abbiamo affrontato questo problema la produzione attuale prevede l'utilizzo di un particolare tipo di cemento di tipo 1 cioè un cemento che ha un impatto ambientale considerevole ovviamente garantisce poi al prodotto finale una prestazione migliore l'idea era quella di sostituirlo con un cemento un po' più rispettoso dell'ambiente che ha circa il 40% di materiale di riciclo ma diciamo questa sostituzione probabilmente avrebbe indebolito il prodotto finale e quindi abbiamo deciso di aggiungere un altro materiale di riciclo che sono appunto le fibre degli pneumatici a fine vita per in qualche modo compensare un'eventuale minore prestazione del prodotto finale e diciamo in questo modo quindi abbiamo creato diciamo il produttore ha creato una nuova lastra che diciamo è stata posta a confronto con quella che noi tradizionalmente da anni produce senza alcun materiale di riciclo e diciamo nel nostro laboratorio al Politecnico di Torino è stato diciamo prodotto e poi sottoposto a prova un solaio in scala reale quindi una vera e propria struttura che diciamo può essere correntemente prodotta non vi annoio con diciamo con i risultati vi faccio solo vedere quello che succede questo disegno questo grafico rappresenta la prestazione di una di una lastra attuale se non va più ok pardon sono andato un po' oltre questa è la lastra attuale la nuova lastra vedete ha un grafico che sta sopra quella precedente quindi le prestazioni sono decisamente migliorate quindi sostanzialmente questa esperienza di cui ho solo diciamo illustrato una piccola parte ci dice che l'uso di materiali non tradizionali di riciclo quindi diciamo comunemente considerato considerati diciamo di scarsa qualità in realtà se opportunamente dosati e opportunamente introdotti nei materiali tradizionali possono addirittura migliorare le prestazioni che normalmente che normalmente si hanno ora vorrei chiudere questo mio intervento facendo un'osservazione ecco il prescrivere il 5% di materiali di riciclo nell'ambito dell'ingegneria strutturale di cui mi occupo in particolare calcio e struzzo è diciamo un vincolo un po' eccessivo e diciamo la prescrizione si adatta pochissimo è male a diciamo l'approccio che gli ingegneri strutturisti hanno che è di tipo prestazionale e quindi sarebbe diciamo opportuno che oltre a definire il quantitativo di materiali di riciclo sarebbe diciamo appunto opportuno introdurre un qualcosa che identifichi l'obiettivo che si vuole raggiungere con quella con quella prestazione con quello diciamo con l'introduzione di quel materiale perché si potrebbero creare diciamo fraintendimenti e uno dei fraintendimenti o diciamo se vogliamo della poca comprensione del problema ambientale è questo in realtà se voi se voi diciamo siete diciamo nell'ambito conoscete il mercato delle costruzioni i tondini d'acciaio che normalmente vengono utilizzati per il cemento armato sono nella quasi totalità dei casi prodotti con materiali di riciclo cioè con la fusione di diciamo vecchio materiale d'acciaio e quindi in teoria potrebbero già soddisfare se ne metto in quantità diciamo rilevante potrebbero già soddisfare il criterio minimo ambientale però ovviamente in questo caso il riciclo è diciamo legato a una produzione quasi ex novo in cui il materiale iniziale viene nuovamente fuso e quindi l'impatto ambientale non è sostanzialmente ridotto se non diciamo per la parte relativa alle materie prime al contrario l'uso delle fibre che invece provengono dagli pneumatici a fine vita è un uso non dico tal quale ma molto vicino a diciamo la situazione che si ha del materiale già presente negli pneumatici senza necessità di diffusione quindi con un impatto ambientale decisamente minore per cui diciamo l'approccio prescrittivo ma si adatta a poi diciamo definire meglio le prestazioni finali del materiale che si vuole creare con questo ho chiuso sì questa osservazione è molto importante perché diciamo questa esperienza qua sui calciestrutti è un'esperienza perché finora diciamo tutte le fibre d'acciaio sono state portate al recupero in fonderia quindi è un recupero di materia sì ma allora se io posso utilizzarle senza doverle rifonderle salto un passaggio riduco emissioni di CO2 riduco consumo energetico e comunque abbiamo visto che le qualità prestazionali non hanno nulla da invidiare anzi sono addirittura migliorative rispetto a ad un uso diciamo di di un riciclo classico in fonderia quindi sui calciestrutti noi stiamo lavorando stiamo collaborando non solo col Politecnico ma anche con la Sapienza di Roma e quindi a questo punto ci sta bene la presentazione dell'ingegnere Sambucci dove ci illustra qualche altra novità prego grazie per la presentazione per l'opportunità e la nostra esperienza la nostra cooperazione con l'associazione ETA dura ormai da cinque anni cinque anni fa ci siamo avvicinati proprio alla possibilità di impiegare e di implementare il concetto di riciclo dei pneumatici proprio nel contesto dei materiali cementizi e nello specifico impiegare gomma macinata derivante proprio dai pneumatici a fine vita come aggregato alternativo per ottenere dei nuovi materiali da costruzione ovviamente funzionalizzati in maniera targettizzata proprio per ottenere migliorate prestazioni soprattutto in termini di isolamento termico e di isolamento acustico quali sono i benefici soprattutto in una breve panoramica sulle nostre finalità sulla nostra driving force che ha spinto un po' a voler investigare questa nuova tematica possiamo considerare due tipi di benefici benefici tecnologici come vi ho accennato precedentemente che riguardano sicuramente l'ottenimento di materiali mirati all'alleggerimento delle strutture all'incremento della tenacità del materiale quindi anche sotto l'aspetto comunque di smorzamento delle vibrazioni migliorate prestazioni appunto di dissipazione acustica di isolamento termico e di durabilità soprattutto quando si parla di cicli di gelo e disgelo ovviamente a ciò si aggiungono anche benefici di natura economica ed ambientale in quanto innanzitutto in questo modo considerando anche la massiva e la massiccia comunque massiccio accumulo di pneumatici a fine vita che ritroviamo comunemente quotidianamente possiamo implementare in questo modo un approccio circolare sicuramente molto più pulito e sostenibile per la gestione proprio dei PFU evitiamo emissioni di gas clima alteranti proprio per lo smaltimento dei pneumatici a fine vita e soprattutto andando a utilizzare la gomma come un aggregato alternativo in queste miscele cementizie andiamo a salvaguardare proprio gli inerti naturali e quindi evitiamo le attività di estrazione da miniera quali sono i possibili campi di applicazione ovviamente applicazioni di tipo non strutturale ovviamente sappiamo che la gomma rispetto a un inerte classico è meno performante da un punto di vista meccanico ma può essere sicuramente molto più performante da un punto di vista termico ed acustico quindi possiamo proporre queste nuove miscele cementizie alleggerite per blocchi per murature non strutturali pavimentazioni per aree di parcheggio o aree pedonali pannelli antirumore o anche semplicemente per componenti di arredo urbano in particolare noi ci stiamo focalizzando proprio a trovare un'applicazione per queste nuove miscele cementizie principalmente per ottenere dei blocchi di muratura in quanto vengono valorizzati anche non solo l'alleggerimento ma anche le prestazioni termiche ed acustiche e blocchi per pavimentazioni dove vengono anche valorizzate le prestazioni di durabilità come vi ho detto precedentemente a cicli di gelo e disgelo la tenacità del materiale dove è necessaria una certa flessibilità comunque delle pavimentazioni per ottenere anche una shelf life abbastanza duratura proprio di questi materiali di queste applicazioni ecco la nostra linea di ricerca si è sostanzialmente focalizzata nell'implementare nell'integrare due tipi di frazioni polimeriche due tipi di frazioni di gomma polverino e granulato di gomma quindi due diverse granulometrie per ottenere diverse formulazioni ingegnerizzate opportunamente e su cui appunto eseguire una sorta di validazione una caratterizzazione sperimentale che ha riguardato test meccanici ovviamente test di isolamento acustico e di isolamento termico ma soprattutto combinati non solo con appunto una caratterizzazione tecnologica del materiale ma anche con un'analisi di impatto ambientale in quanto presso i nostri laboratori disponiamo anche di software di simulazione per valutare proprio l'impatto ambientale sia legato al processo di produzione sia legato alle materie prime utilizzate e le applicazioni proposte su cui abbiamo investigato è in un primo caso come vi ho detto precedentemente la possibilità di ottenere dei componenti prefabbricati come ad esempio dei laterizi forati o dei laterizi pieni totalmente caratterizzati da aggregato di gomma in sostituzione dell'aggregato lapidio tradizionale o ad esempio dei blocchi sandwich che combinano appunto un'anima costituita da gomma e cemento con delle pelli che si trovano nella parte di base e nella parte superiore che danno consistenza meccanica al materiale quindi un'applicazione comunque che può essere proposta come vi ho detto in precedenza proprio per blocchi di pavimentazioni un'applicazione un po' più all'avanguardia un po' più avanzata è riguardata la possibilità di studiare di ingegnerizzare queste miscele per processi di manifattura additiva la stampa 3D che tutti conosciamo applicata ben applicata ai materiali plastici ma che siamo riusciti anche ad ingegnerizzare e a funzionalizzare proprio per le miscele cementizie che ci dà il vantaggio non solo di avere un risparmio in termini di utilizzo di materiali in termini comunque anche di evitato utilizzo di stampi e di casseforme per realizzare dei manufatti ma anche vantaggi in termini di libertà architettonica cioè la possibilità sostanzialmente grazie alla tecnica propria additiva di andare a realizzare delle forme complesse anche se comunque funzionali in vista tecnologico ed ingegneristico quindi sono due approcci due linee di ricerca che stiamo portando avanti che combinano non solo il processo ma anche il materiale sempre con un taglio legato alla sostenibilità ambientale i risultati quindi ottenuti vi faccio una brevissima panoramica di ciò che abbiamo ottenuto come risultato delle nostre ricerche siamo usciti ad ingegnerizzare dei materiali con una riduzione del peso specifico di oltre il 40% andando a sostituire totalmente l'aggregato lapidio con la gomma riduzione della conducibilità termica di circa dell'80% il che significa un altrettanto incremento della resistenza termica dei materiali delle prestazioni di resistenza meccanica che sono in linea con i requisiti di calcestruzzi leggeri strutturali di classe 2 quindi certificabili come calcestruzzi leggeri strutturali un aumento dell'efficienza di isolamento acustico di oltre il 10% e cosa molto importante una riduzione di circa il 65% delle emissioni climalteranti quindi del carbon footprint inoltre come vi ho detto precedentemente la possibilità di sviluppare delle miscele che siano da un punto di vista diciamo riologico idonee a essere implementate in processi di manifattura additiva quindi solo per enfatizzare il fatto che la gomma può essere utilizzata come aggregato alternativo per le miscele cementizie fornendo comunque prestazioni interessanti per numerose applicazioni in ambito civile architettonico e anche potenzialmente utilizzabile per applicazioni per processi di manifattura avanzata che stanno prendendo sempre più piede in quest'ultimo periodo in quanto tagliati verso sempre una target di ecosostenibilità ambientale e con questo ho concluso grazie andiamo rapidamente avanti quindi la parola all'ingegnere Benso del Città Meritutana di Torino dove hanno fatto delle esperienze interessanti con i conglomerati bituminosi sì buongiorno a tutti grazie dell'invito a questa giornata sono un tecnico della Città Metropolitana di Torino direzione di viabilità e ho avuto il modo di occuparmi già da diversi anni dell'utilizzo del polverino di gomma inserito all'interno delle pavimentazioni ok sì troppo l'esperienza della Città Metropolitana di Torino all'epoca provincia di Torino nasce nel 2008 in questo campione di applicazione con 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 dei protocolli di intesa con il Politecnico di Torino diciamo che il territorio della Città Metropolitana è quello più esteso come superficie tra tutte le Città Metropolitane d'Italia abbiamo una gestione di circa 2.900 km di strade con un territorio molto eterogeneo sono strade che vanno strade di pianura strade di montagna quindi con esigenze di gestione di manutenzione decisamente differenti ad oggi partendo dal 2008 quindi dalla prima esperienza fatta proprio a livello sperimentale soltanto col Politecnico di Torino ad oggi abbiamo pavimentato circa 10 km di strade con conglomerato bituminoso additivato con polverino di gomma utilizzando sia una metodologia wet quindi con bitume modificato con l'inserimento di polverino che è una tecnologia dry dove il polverino rappresenta un'apparuzione degli aggregati quindi inserito dopo ad oggi come come evidenziava il Dottor Musacchi effettivamente l'utilizzo di conglomerato bituminoso additivato non è così diffuso cioè i produttori lamentano una difficoltà anche tecnologica nel produrre nel produrre telemateriale ci sono delle delle incertezze anche da parte delle pubbliche amministrazioni dei tecnici nel non sapere non aver ben codificato che tipo di materiale siamo andati a creare non c'è un prezziario non c'è diciamo siamo ancora ad un livello ad un livello sperimentale anche se la biografia e la letteratura è molto diffusa c'è un materiale che si utilizza già a partire dagli anni 50 soprattutto negli Stati Uniti eccetera quindi noi come ente siamo partiti nel 2008 con questo protocollo sperimentale nel 2015 dal 2011 2015 abbiamo partecipato come partner ad un progetto europeo che ci ha permesso di continuare questa questa sperimentazione all'interno di di un asset consolidato tra tra vari partner abbiamo avuto un'estensione di questo progetto da parte del Ministero dell'Ambiente e poi ci siamo mossi in autonomia con alcuni interventi così in house cioè durante le normali manutenzioni che conduciamo durante l'anno a continuare ad utilizzare questo materiale chiaramente sono tutti utilizzi che hanno un aspetto sperimentale cioè non hanno di per sé non hanno non hanno permesso l'inserimento cioè l'inserimento dei capitolati è nato a valle di un finanziamento cioè progetto europeo con un titolo ben preciso allora si crea il capitolato ad hoc per soddisfare quindi l'obiettivo è proprio quello di andare a definire quelli che sono i capitolati ma da proporre come 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 stazioni appaltanti come tecnici diciamo che all'interno di questo progetto Replan City l'idea che ci siamo dati è quella di avendo sperimentato appunto alcune alcune caratteristiche e ad oggi cercando di portare avanti la valutazione dei parametri chiamiamoli meccanici delle pavimentazioni che abbiamo fatto è nato il dubbio sentendo appunto anche le obiezioni sollevate dai produttori in genere di cosa succede a questa pavimentazione a fine vita quindi l'idea è un po' proprio quella di partire dalla fine cioè tendenzialmente le pavimentazioni stradali dopo una particolare la parte superficiale che è chiamata tappeto d'usura se è quello che è soggetto all'utilizzo e all'usura al consumo dopo un arco di tempo che dovrebbe essere intorno ai 5 6 7 anni ma molte volte più lungo perché per esigenze finanziarie di bilanci comunque viene rifatto viene tirato via portato via si produce quello che è il fresato di conglomerato che oggi è ben incasellato in una normativa di sottoprodotto cioè viene classificato dal punto di vista di contenuti chimici e si trasforma in granulato di conglomerato bituminoso che viene riutilizzato in percentuale nella creazione di nuovi conglomerati bituminosi il dubbio che nasce nel nell'utilizzo all'interno delle pavimentazioni è cosa succede che cosa che cos'è il materiale che io ho creato quando lo dovrò andare a rimuovere cioè rispetta l'idea quello che vogliamo andare a scoprire rispetta gli stessi parametri quindi può essere considerato sottoprodotto a tutti gli effetti o è qualcosa di diverso perché li ho inserito dentro del granulato di gomma in questa slide che è quasi è l'ultima è un po' riassunto il procedimento che cioè quello che potrebbe succedere è quello che vorremmo andare a investigare in questi due anni di progetto cioè il fresato rtm ad oggi contenente rtm lo vogliamo sottoporre alle analisi previste ad oggi per il il fresato tradizionale nel caso in cui nelle rispetti chiaramente quel materiale lì non può essere impiegato quindi di per sé o è un rifiuto e il polverino di gomma il granulato di gomma lo dobbiamo destinare ad altri impieghi nel caso in cui invece rispetti la classificazione quindi sia classificato a tutti gli effetti come un sottoprodotto quindi un granulato di conglomerato bituminoso deve ancora dobbiamo ancora fare una verifica quella del riempiego a livello industriale cioè ovvero al reinserimento nella produzione di nuovo conglomerato cosa succede alle emissioni che gli impianti tendenzialmente hanno cioè se la presenza di quel po' di gomma evidenzio che noi cioè le percentuali di gomma all'interno del conglomerato viaggiamo intorno all'1% in peso sul materiale come diceva il dottor Musacchi gran parte delle nostre strade ha già della gomma che è quella che deriva dal consumo dei pneumatici quindi i nostri mucchi di granulato di granulato di conglomerato ad oggi hanno già di per sé all'interno un po' di questo prodotto qua comunque l'obiezione che viene fatta e che deve essere fugata è proprio quella cioè quando io vado a mettere invece un materiale che ho creato inserendogli della gomma all'interno cosa succede alle emissioni perché questo è un duplice aspetto cioè se le emissioni superano i valori limiti allora chiaramente devo andare a gestire sia il materiale che ho creato ma soprattutto il rimpiego differenziandone l'uso cioè devo poterlo generare riutilizzare a freddo in un ciclo a freddo in un ciclo a caldo ma soprattutto devo avere una mappatura degli interventi che ho fatto cioè se voglio proseguire perché comunque dal punto di vista ambientale di riciclo di Green Public Procurement può essere una soluzione adottabile e devo anche attuare una mappatura degli interventi cioè devo sapere dove ho utilizzato quel materiale perché poi nel momento in cui fra dieci anni quando magari i personaggi sono cambiati chiunque si debba dover operare su quel tratto di strada per rimuovere deve sapere che tipo di materiale è e a quale destinazione deve essere deve essere deve essere inviata quindi appunto questa è già successiva perfetto questo qua è un po' la domanda che che vorremmo fugare con questo con questo progetto cioè cosa ne facciamo di questo materiale dato atto delle caratteristiche e della possibilità dell'impiego noi abbiamo noi abbiamo terminato con l'istituzione del progetto se ci sono delle domande le possiamo prendere adesso o anche dopo abbiamo fatto girare un modulo per raccogliere i vostri contatti così possiamo mandare ulteriori aggiornamenti sul progetto ma nelle slide ci sono successivamente anche le nostre email quindi potete eventualmente contattare sia me che gli altri relatori per qualsiasi ulteriore approfondimento grazie a tutti e buon proseguimento grazie a voi super interessante e mi ha fatto molto piacere notare come in queste applicazioni poi e in quello che hanno restituito durante il racconto quanto sia importante anche per quanto riguarda i nuovi materiali trovare il modo di anche già immaginare il loro fine vita anche se è qualcosa che viene immagino nel fine vita di quanto sia importante poi calcolare il life cycle assessment di un prodotto piuttosto che imporci un dato a prescindere e tornando alle applicazioni che si possono avere in edilizia di nuovi materiali che possono avere nuove vite voglio portare a raccontare la loro testimonianza altre due esperienze e chiamo a raggiungermi la dottoressa Sara Casini che è la responsabile di ricerca e sviluppo di Manifattura Maiano S.P.A. che è un'azienda di Campi Bisenzi a Firenze specializzata nella lavorazione di fibre tessili per riapplicazioni anche nel campo dell'edilizia e il dottor scusate Fabrizio Salomoni che è responsabile del settore edilizia e costruzioni di cooperative lavoro e servizi una cooperativa che è nata nel 1919 quindi ne ha viste delle belle un po' di storie alle spalle allora parto dalla dottoressa Casini alla quale chiedo intanto di funziona? Sì, buonasera grazie per l'invito innanzitutto per la presenza avrei sì, le slide le slide quindi le chiedo un po' di raccontarci che cosa fa Manifattura Maiano qual è il valore aggiunto se fanno partire le slide gentilmente scusate non so lo strumento ok allora anticipo intanto anche una domanda e rispetto dopo averci presentato questi prodotti volevo anche chiederle se c'è un mercato attualmente dal vostro punto di vista la vostra esperienza per i prodotti per innovativi che diciamo avete realizzato e se i CAM davvero poi dal punto di vista dell'impresa stanno implementando supportando l'implementazione di politiche circolari sostenendo diciamo chi come Manifattura Maiano poi interviene nella ricerca e nello sviluppo Iniziamo quindi allora dalla fine la conclusione purtroppo è che in realtà io parlo porto appunto la rappresentanza di una di un'impresa del mondo tessile quindi parliamo della filiera del tessile che ha diverse altre esigenze rispetto ad altri materiali soprattutto nell'applicazione del settore edile e soprattutto parlando di impieghi circolari purtroppo i CAM hanno aggiunto difficoltà all'applicazione a trovare un reimpiego nel settore edilizio dei prodotti tessili pur avendo dei principi che vanno incontro la difficoltà per un'azienda una media impresa è quella di rispondere a tutte le specifiche tecniche richieste ai materiali in assenza di certificazioni dedicate a quel materiale e norme specifiche dedicate a quel materiale non so se parte la la presentazione ok funziona si ok bene giusto una piccola premessa per capire che cosa facciamo come azienda e in quale fase della della filiera tessile ci posizioniamo la nostra è un'azienda storica io sono faccio parte della proprietà dell'azienda sono imprenditore imprenditrice di seconda generazione veniamo stiamo nel distritto tessile cratese come impresa sapete che a Prato da sempre ricicliamo le fibre tessili troviamo nuovi impieghi la specificità di Manifattura Maiano è che questo reimpiego non viene fatto all'interno del ciclo tessile moda ma vengono prodotti tessili tecnici quindi feltri ovatti pannelli isolanti per applicare in altri settori quindi si porta la fibra tessile in settori diversi primariamente e questo storicamente proprio siamo nati proprio con la raccolta degli scarti tessili non buoni per fare il cardato riciclato per il tessile per fare imbottiture per il settore dell'arredamento abbiamo quindi linee produttive io tutto quello di cui parlo sto parlando di applicazioni industriali fatti su impianti industriali non su impianti pilota abbiamo delle linee dedicate a fare i feltri per le calzature quindi componenti tessili per le calzature pannelli isolanti per l'edilizia per il settore dell'industria per le termoformature per l'automotive e altre applicazioni abbastanza disparate che vanno dall'agricoltura all'equitazione insomma il tessile riciclato in particolare si può mettere ovunque ora noi lavoriamo sia le fibre vergeni naturali sintetiche la fibra riciclata è proprio una tradizione storica e per assurdo ora che si parla tanto che si è acceso un po' il faro sul problema del tessile del rimpiego del tessile in realtà il campo deve essere sgombrato da tanti falsi miti il primo falso mito è che c'è un c'è un possibile riempiego sembra quasi tutte le politiche ultimamente si stanno concentrando sulla raccolta la differenziazione sul creare materia prima seconda buona per essere riempiegata la realtà è che non ci sono gli spazi nei mercati per riempiegare questo tessile e vi porto una mia testimonianza parziale ma abbastanza significativa perché credo che almeno in Italia siamo l'azienda che produce più tessuto non tessuto noi utilizziamo 7.000 tonnellate di fibre tessili l'anno di cui un 70% proveniente dal riciclo la maggioranza delle fibre riciclate che noi utilizziamo sono le fibre di poliestere però quelle provenienti dalla filiera della raccolta delle bottiglie di plastica ma questo perché chiediamoci anche perché da un certo punto di vista la materia prima o seconda poliestere fibra ha già delle certificazioni delle normative dedicate e quindi il cliente finale che deve applicare un isolante piuttosto che fare un prodotto che vada a contatto della pelle impiegarlo in un manufatto per l'arredamento per esempio trova già delle garanzie delle certificazioni che invece nelle fibre tessili riciclate non c'è perché non c'è un ente un punto in cui viene data una marcatura scia viene data anche una semplice conformità rich che è un grande problema per la fibre tessili in quanto per la loro stessa natura ogni partita è diversa dall'altra per esempio quindi noi attualmente utilizziamo ripeto a livello industriale quindi dei cascami che vengono da varie filiere primariamente la filiera dell'arredamento dove storicamente facciamo economia circolare diciamo da prima che venisse coniato il termine proprio perché per un fatto di anche convenienza con i clienti del settore arredo noi consegniamo il materiale non so l'ovatta i feltri per le imbottiture loro ci consegnano invece i loro scarti di produzione in fase di trapuntatura e confezione questi scarti vengono macinati ovvero sfilacciati ritrasformati in materiale e riportati in forma di ovatta reimpiegati all'interno di altre linee produttive quindi si tratta sempre di linee pre-consumo dalla filiera moda invece essendo inseriti soprattutto nel distritto tessile pratese c'è una raccolta capillare da parte di nostri collaboratori terzisti micro imprese dei cascami delle varie operazioni di filatura di tessitura di tintoria e confezione e così via del ciclo del tessile moda e anche questi a seconda delle qualità possono essere riportati a fibra e riutilizzati tutto questo a livello tecnologico non c'è da inventare niente sono già le tecnologie sono già ben note e poi appunto la filiera del poliestro e queste varie filiere possono essere mescolate tra di loro aggiungo vedendo anche la presentazione di prima il tessile proveniente dal pneumatici potrebbe essere benissimo rimpegato con le tecnologie esistenti quello che manca è proprio la vastità diciamo dell'applicazione della capacità di assorbimento di queste materie prime e seconde da parte dei mercati qui ho elencato un po' le destinazioni possibili questa fibra noi cosa facciamo prendiamo appunto la fibra e le trasformiamo in realtà in semi lavorati composti da tessili rigenerati che a loro volta entrano in altre filiere produttive per andare a creare prodotti finiti quindi componenti tessili per automotive o per la mobilità in genere abbiamo clienti non so fanno go kart fanno trattori oppure feltri per calzature componenti interni quindi sottopiedi somagliere i miei forzi per le calzature imballaggi abbiamo iniziato le collaborazioni anche con aziende che fanno packaging utilizzando le fibre riciclate oggetti di design e complementi d'arredo è molto utilizzato o perlomeno c'è molto interesse sviluppo applicazione poca per il momento su pannelli termoformabili quindi le fibre tessili mescolate a fibre tecniche provenienza di poliestere anche lì in parte riciclato assumono una forma e si può fare complementi d'arredo tavoli sedie qualsiasi cosa poi e poi c'è la parte edilizia quindi la parte edilizia noi da diversi anni abbiamo proposto sul mercato un pannello termoacustico per intercapetini solai pavimentazioni pareti e qui magari facciamo un piccolo focus su quello in quanto oggi un po' si parla di pubblica amministrazione ma anche le applicazioni precedenti per dire la vastità che potrebbero avere le applicazioni e già approvate dal punto di vista tecnico ed industriale anche qui si pensa sempre che si deve fare ricerca sulle possibili applicazioni ma in realtà è lo stimolo dell'utilizzo dei prodotti di contenuto riciclato che manca per quanto riguarda l'isolante tessile noi abbiamo questo prodotto che abbiamo chiamato Recycle Term chilometro zero proprio perché nel giro nel raggio di 15 km troviamo tutta la materia prima e tra l'altro anche la tecnologia anche il meccano tessile per produrre questi questi pannelli isolanti abbiamo svolto tutti i test le specifiche tecniche richieste dalla direttiva europea dei materiali da costruzione su questo prodotto e quindi i risultati sono che ottengono ottime prestazioni dal punto di vista termico ma soprattutto acustico in fase di assorbimento acustico con le fibre tessili isoliamo il nostro corpo isoliamo anche gli edifici è anche semplice come rendersene conto il comportamento al fuoco è stato certificato in Euro classe E è un prodotto sicuro per la salute proprio perché questo riciclo proviene noi utilizziamo più che altro sottoprodotti poi magari entriamo anche sulle difficoltà tra le specifiche tra sottoprodotto e materia prima seconda proveniente dal rifiuto proprio perché le lavorazioni che lavorano in Italia abbiamo una produzione tessile attenta all'ambiente rispettoso delle leggi e quindi il materiale è già lo scarto per consumo è già uno scarto sicuro e quindi già abbiamo questa 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 garanzia e non sono prodotti emissivi per esempio il prodotto è riciclato quindi ha un contenuto del 100% fibra riciclato e riciclabile a sua volta può essere ritrasformato in fibra ma in più data anche la la caratteristica di essere durevole nel tempo il prodotto può essere riutilizzato perché per esempio se si progetta una costruzione edili a secco ad esempio all'interno di pareti di cartongesso quando si va a smantellare il prodotto rimane tal quale in quanto il legante è un legante polimerico un legante è poliestere quindi le fibre vengono coesionate tra di loro in modo stabile e nel tempo non perde le sue caratteristiche fisico e prestazionali e anche questo è un aspetto molto importante per quanto riguarda dal punto di vista ambientale ormai sono più di dieci anni che abbiamo fatto mi sembra sì dieci anni nel 2013 mi sembra uno studio all'ECA dei prodotti con l'istituto Sant'Anna di Pisa certificato dal RINA tra l'altro all'interno di un programma del Ministero dell'Ambiente sull'impatto ambientale dei prodotti di largo consumo e quello che è venuto fuori dallo studio è che la carbon footprint di questo prodotto è veramente contenuta si parla di un chilo meno di un chilo di CO2 equivalente per un chilo di prodotto ed è anche un consumo di acqua siamo intorno a un metro cubo di acqua perché tutti questi passaggi sono passaggi meccanici non richiedono utilizzo di acqua non richiedono utilizzo di prodotti chimici servono solamente appunto passaggi meccanici e calore e anche il calore è contenuto rispetto a quello utilizzato anche per altri isolanti se pensi alle lani minerali per esempio i dati io in realtà non potrei neanche comunicare questi dati perché non ho un EPD sul prodotto quindi abbiamo fatto lo studio LCA ma questo per dire che diamo come garanzia comunque la la certificazione ISO 9000 dell'azienda e dei processi e questo torno un po' al discorso iniziale la difficoltà di ottemperare a tutte le richieste di certificazione specifiche tecniche richieste in edilizia per un prodotto nuovo infatti la cosa un po' bizzarra dei CAM è che sono partiti con i migliori auspici ma sono stati inseriti anche all'interno dei CAM all'interno dei materiali isolanti la voce di isolanti tessili però d'altra parte si richiedono appunto a partire dalla richiesta di marcatura CE obbligatoria per i prodotti agli isolanti delle prestazioni per i quali non esiste una norma non c'è una norma armonizzata per fare la marcatura CE dei prodotti tessili bene detto certo fate un'ETA fate una marcatura volontaria ma ci vogliono anni risorse dedicate che una media impresa non può avere mentre rispetto alla presentazione che abbiamo visto prima che già si vede un passo un po' più avanti nel senso c'è già una rete di imprese di studi ma sul tessle c'è poco tutti gli sforzi sono concentrati appunto sulla raccolta senza sapere che tutta quella raccolta non serve a nessuno al momento perché già con i sottoprodotti selezionati già c'è un'abbondanza di sottoprodotti la nostra azienda tutte le settimane viene tutti i giorni tempestata di richieste volete i nostri scarti abbiamo i nostri scarti ve li cediamo in modo gratuito no anche i sottoprodotti sono arrivati a costare zero poi li acquistiamo con bolla noi li paghiamo per gestire i sottoprodotti ma qui stiamo parlando di rimpegare i rifiuti ma già che avranno una minore qualità e un costo maggiore proprio per tutte le fasi di raccolta, selezione e trattamento quindi ci dobbiamo interrogare che cosa succederà dopo quindi guardare a valle della filiera per capire stiamo preparando la partenza senza sapere dove dobbiamo andare infatti i limiti allo sviluppo di questo mercato quali sono l'analisi dei dati delle politiche mirate a favorire l'impiego di questi prodotti tessili riciclati nei prodotti largo consumo a partire dall'edilizia l'edilizia perché avrebbe un'enorme potenzialità di impiego proprio in termini di metri quadri, metri cubi di prodotti impiegabili l'altro limite è come dicevo la mancanza di un chiaro inquadramento normativo anche un direttore dei lavori che deve valutare un capitolato un prodotto davanti a un materiale che magari non ha la marcatura potrebbe avere l'ecotex per la garanzia della sicurezza dei prodotti e della non emissività ma mi si chiede invece una certificazione dei VOC se si va a vedere i VOC quindi è la certificazione sulla non emissività non pericolosità da un certo punto di vista dei prodotti da costruzioni ha dei limiti molto molto più bassi molto meno stringenti della certificazione ecotex che è diciamo un parallelo nel mondo del tessile alla più diffusa ma non c'è conoscenza diciamo chi è del settore tessile e pensa al reimpiego pensa sempre al tessile moda chi pensa ai prodotti circolari in altri settori non pensa all'impiego del tessile e quindi c'è purtroppo tanto lavoro da fare la realtà però che cos'è? è proprio il lavoro delle manifatture delle piccole e medie imprese italiane questa filiera del recupero del tessile che in realtà sta morendo perché i miei concorrenti stanno vendendo gli impianti che faceva le sfilacciature che sono le aziende di prima trasformazione a Prato ce ne erano tantissime sono rimaste 4-5 quindi è una materia per assurdo questa è una materia prima seconda anche in futuro l'Italia è povera di materie prime abbiamo una materia prima no perché per come sono le regolamentazioni come è il sistema adesso se continua così andremo a prendere i riciclati tessili nei paesi dove viene prodotto il tessile dal Pakistan dall'India dalla Cina quindi anche questa risorsa e know-how eccellente che abbiamo in Italia se non si mette gli occhi andrà perso e quindi c'è speranza ma c'è anche molto allarmismo è il tempo che non gioca dalla nostra parte grazie dottoressa Casini fortunatamente esistono esperienze come appunto qui il forum Compraverde dove uno può provare a portare le proprie stanze e capire come come per alcuni tipi di materiali ci sono delle redi consolidate di persone e di stakeholder che stanno provando a lavorare per rendere fattibile possibile un mercato facendo anche informazione perché poi siamo detti tra vari settori non c'è ancora la conoscenza reciproca cosa che invece per i concetti di economia circolare della simbiosi industriale di cui che nominiamo spesso in questi ambiti invece la possibilità di mettere in rete le competenze tra filiere diverse che possono parlarsi sempre con un'ottica di anche pensare al futuro poi cosa faccio con quel materiale anche come dall'ultimo degli interventi quello del dottor Benzo prima di lei mi fa piacere però notare come anche c'è già uno sguardo su quello che è il concetto dell'architettura riversibile dell'edilizia reversibile del poter immaginare anche come poi quello che io costruisco è anche una banca di materiali per il futuro e questo qui poi tutto quanto deve essere messo sul tavolo per realizzare davvero una progettazione reversibile rigenerativa quindi una cosa vorrei aggiungere questo mio discorso è molto legato al lavoro poi ai posti di lavoro perché ci sono macchinari ci sono impianti che occupano persone che proprio nella filiera del riciclo tessile si sono persi posti di lavoro e questo è importante solo nella mia azienda noi stiamo crescendo molto con altri materiali ma per il tessile riciclato avevamo due impianti a 24 ore fissi 18 persone impiegate che lavoravano fibre tessile riciclate adesso abbiamo un impianto tipo due turni perché sono impianti a ciclo completo 6 persone quindi un terzo l'economia circolare nel tessile non sta portando nuovi posti di lavoro e questo è un'assurdità possiamo fare un appello a chi oggi è stato qui prima di lei perché provare a mettere in comunicazione queste filiere che hanno molto da condividere ma che forse ancora non si parlano abbastanza e rispetto anche alle alle difficoltà abbiamo visto alle alle possibili che applicazioni agli studi alle difficoltà ma anche che ci sono come abbiamo parlato di difficoltà del mercato del rimpiego su alcuni materiali per esempio adesso parleremo con il dottor Salomoni per esempio gli inerti della costruzione e demolizione c'è anche a volte la difficoltà di capire se a parità di prestazioni il riciclato è più o meno conveniente a livello economico e come poter risolvere anche questa problematica oltre a quelle normative che ci faceva presente anche la dottoressa Casini che mettono un argine a questo diciamo alla possibilità per questi materiali dall'alto valore a volte tecnico abbiamo visto come anche superiore quindi processi anche di upcycling molto spesso si pensa al downcycling quando si pensa al riciclo come diciamo è possibile andare a risolvere queste problematiche e soprattutto volevo chiedere al dottor Salomone se ci racconta gli studi che sono fatti stati fatti in merito con la collaborazione dell'università di Bologna diciamo rispetto a qual è il microfono ha un microfono c'era perfetto diciamo quali sono stati i risultati degli studi fatti invece su altri tipi di materiali come gli inerti da costruzione e demoluzione sì buonasera innanzitutto per affrontarli appunto bisogna farli emergere altrimenti non è possibile farlo oltre a essere il referente del settore delle costruzioni per conf cooperative sono il direttore di una impresa in forma cooperativa di costruzioni nata in un paese fra Bologna e Firenze che ha circa 500 dipendenti nel abbiamo sempre avuto un'estrema attenzione all'economia circolare i CAM e l'introduzione insomma dei CAM ha velocizzato tutti gli attori compreso la parte pubblica ad attenzionare il problema ma è chiaro che in un campo del settore delle costruzioni che è quello della manutenzione delle condotte acqua, fognatura di questi lavori generalmente commissionati da queste multi-utilities che ricadono nei settori esclusi a prescindere dai CAM il nostro obiettivo poco prima del Covid era aprire un impianto di recupero inerti aperto al pubblico e riutilizzare almeno l'80% di quanto producevamo in realtà poi strada facendo siamo arrivati ad utilizzare il 100% nei periodi da maggio fino all'autunno e sotto alcune materie ad essere carenti nel senso che dobbiamo farci conferire altri rifiuti in questo caso da reimpiegare perché non ne produciamo a sufficienza quindi la cooperativa in cui lavoro ha aperto questo impianto di recupero inerti ha contrattualizzato una borsa di studio con un dipartimento dei materiali dell'università della facoltà di ingegneria dell'università di Bologna che ormai è all'ottavo anno ed è tecnicamente perpetua perché un impianto di questo tipo ha necessità di una collaborazione comunque continua con l'università e abbiamo iniziato a produrre questi inerti di recupero abbiamo brevettato degli asfalti tiepidi realizzati interamente con del fresato e dell'additivo di estrazione vegetale che non trovano norme unicorrispondenti le abbiamo certificato secondo norme assimilabili e abbiamo fatto tutti i testing tecnici e le prestazioni sono come in esempi anche precedenti superiori rispetto agli stessi conglomerati con inerti vergini tradizionali a un certo punto poco prima del covid abbiamo sentito la necessità di commissionare all'università una ricerca per far emergere quello che è il costo di produzione di questi aggregati fatti con materie primi non vergini in quanto il paradosso soprattutto nei settori esclusi quindi in quella parte di amministrazione pubblica che non ha bisogno di finanziamenti agevolati ma perché fa utili spaventosi essendo in regime di monopolio hanno cominciato ad affrontare i CAM ritribuendo queste forme di inerti il 30% in meno degli inerti di cava quindi dopo la prima senza nessun motivo scientifico alle spalle quindi non è dato sapere su quale ragionamento loro abbiano emanato questi aggiornamenti nei loro elenchi prezzi sta di fatto che non poteva contrastarli un operatore economico abbiamo commissionato appunto questo studio all'università che andando verso la fine ha sostanzialmente fatto un life cycle assessment perché comunque nella componente economica c'è anche la parte di saving ambientale inteso in senso lato e nei risultati di questo studio per quello che riguarda gli inerti come i misti cementati gli inerti da riempimento sia ha preso in esame sostanzialmente gli effetti sulla salute umana gli effetti sull'ecosistema sulle risorse consumate e sulla anidride carbonica consumata questa è la slide per gli aggregati la parte in giallo è il palese risultato abbastanza intuibile di quello che è l'impiego di conglomerati di recupero la parte blu è quella riferita agli inerti vergini sul conglomerato bituminoso che abbiamo brevettato è ancora più evidente perché noi riutilizziamo il 100% di fresato anziché il massimo il 30-40% degli impianti tradizionali e quando siamo però arrivati alla parte economica l'università ha sancito che produrre inerti riciclati non costa meno che produrre inerti con gli inerti estrendo inerti dalle cave costa uguale se non in alcuni casi anche un po' di più è chiaro che le amministrazioni e ribadisco i settori esclusi che delle amministrazioni sono la parte privilegiata perché hanno quasi limitate risorse economiche devono scegliere che cosa fare nel senso che non bastano i CAM quando i costi dell'economia circolare ricadono sugli operatori economici è chiaro che eh se gli inerti di recupero quasi obbligatori dei CAM vengono pagati il 30% in meno smetteremo presto di impiegarli o falliremo molto velocemente insomma non abbiamo tante alternative quindi l'economia circolare ha un costo l'auspicio è che oltre inserire i CAM eh venga retribuito agli operatori che investono proprie risorse eh almeno quanto è costato questa è la fine dell'analisi insomma l'analisi abbastanza corposa l'ho riassunta in tre slide però la ringrazio per la sintesi in parte ha già risposto in realtà la domanda che volevo farle cioè è vero c'era anche da parte un appello su quale può essere la strada ma essendo portavoce anche di una confederazione di cooperative come qual è l'appello visto che abbiamo anche rappresentanti istituzionali che attraversano questi spazi ma già mi ha detto già mettere delle regole sulla possibilità di acquistarli a un costo che non sia in febri allora la parte economica è prioritaria altrimenti diventa difficile tutta la parte normativa eh stiamo abbiamo cioè insomma in discussione abbiamo fatto le osservazioni come federazione sul decreto eh di aggiornamento degli end of west c'è una normativa che parte da dei paradigmi antichi tecnicamente non è possibile utilizzare il terreno di risulta da queste lavorazioni quasi in nessuna parte per fare nessune opere eh perché non è terreno vegetale e perché vi sono eh ancora autorizzazioni che citano il terreno vegetale quando tutti si vantano più o meno dell'utilizzo zero del suolo è chiaro che sono discresie che bisogna avere la volontà di sanare altrimenti diventano di difficile impiego materiali di cui ve ne è necessità io vengo dall'Emilia Romagna sono stati recuperati per rifare degli argini di fiumi esondati 50 mila metri cubi di terreno in quattro giorni che teoricamente dovrebbe essere solo vegetale perché altro non è possibile impiegare quel terreno non è disponibile è possibile e non può essere formalmente conferito del terreno di recupero quindi ci sono viviamo discresi abbastanza eh eh lampanti speriamo che la consultazione portino a questi chiarimenti così come i prodotti da noi brevettati che rispettano tutti i cam sono tecnicamente illegali nell'ottanta per cento dei comuni in Italia perché i regolamenti comunali non hanno recepito gli inerti l'utilizzo degli inerti di recupero e quindi nei permessi che ci vengono dati alla manomissione del suono pubblico qualunque visilo urbano passi il tombamento con quegli inerti non è spesso interpretato rispettante le caratteristiche quindi sei sanzionato devi rimuoverlo e sostituirlo con i inerti di camera quindi viviamo questi paradossi speriamo che la consultazione porti alla risoluzione di buona parte d'Italia altrimenti eh rischiamo di avere che il cam diventi solo un peso sulle spalle da portare invece che un veicolo ok no no volevo aggiungere la cosa un esempio di oggi tre esperienze diverse tutti abbiamo presentato i nostri dati di LCA di impatto ambientale ma nei cam non viene richiesto quindi di dare un valore quantitativo all'impatto sull'ambiente ma qualitativo si chiede un EPD si chiede una certificazione cioè di dimostrare come ci si occupa dell'aspetto ambientale ma non alla fine quanto poi si va a impattare è un po' lì anche si dà molto peso a quello ma se uno impatta più o meno i cam non danno nessun tipo di vantaggio e questo potrebbe essere un aspetto invece di incentivare di premiare prodotti che qualitativamente ma è anche il quadro europeo si parla appunto di LCA di PEF di carbon footprint water footprint ma non vengono mai citati questi valori viene richiesto tutto il resto perché poi alla fine viene è un po' tutto purtroppo per mantenere lo status quo cioè i prodotti comunque che hanno il mercato in mano non sempre comunque sono quelli che impattano di più ma a volte sì per non modificare lo stato di fatto si trovano soluzioni tecniche che in realtà purtroppo sono barriere all'innovazione all'innovazione ambientale e altra cosa incentiviamo noi non vogliamo aiuto e sovvenzioni per creare mercato ma premiare chi utilizza quindi il consumatore finale piuttosto che l'azienda finale che utilizza il prodotto che contiene materiali riciclati che siano tessili conglomerati o altro e mettere in condizioni chi rappresenta poi il mercato finale il cittadino di chiedere un cappotto vado a comprare un cappotto un cappotto fatto con fibre riciclate e fibre vergini costa uguale magari compro quello vergini magari se non ci pago l'IVA chi va a comprare il cappotto in fibre riciclate magari è più incentivato tanto la leve economica è sempre la prima certo quindi mettere in condizioni chi fa il mercato di poterlo spostare assolutamente vi ringrazio per i ragazzi ringrazio le relatrici e i relatori e chiudo il panel grazie ancora buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti